Salve a tutti, sono Maurizio Zoppi, sono un assistente tecnico di laboratorio all'Istituto Tecnologico Michael Faraday di Ostia. Mi candido come RSU nella CGL perché è un sindacato che è sempre stato vicino ai lavoratori. Fino a poco fa ero un lavoratore precario e quindi anche da lavoratore precario il sindacato è sempre stato attento, è sempre stato di supporto alla battaglia, ai lavoratori, è stato vicino a me come lavoratore e a tanti altri lavoratori. Adesso finalmente da settembre 2021 sono di ruolo e quindi ho sentito la spinta e la volontà di mettermi in gioco per aiutare altri compagni, altri lavoratori affinché il lavoro sia un diritto vero come la Costituzione prevede e non soltanto uno slogan. Io credo moltissimo in questa sigla sindacale perché sta continuando a lottare per questi lavoratori, per tutti quanti ed è fondamentale scendere in campo per dare un proprio contributo.